Come nulla è reale, ma tutto è lecito, sale sul palco Assassin's Creed Cosplay Italia! Ciao a tutti, siamo Assassin's Creed Cosplay Italia, come ci hanno presentati, siamo un gruppo che riunisce appassionati della saga e cosplayer, ci trovate al padiglione 20, stand H75, abbiamo ricevuto una copia dell'Animus che potete vedere in Assassin's Creed 2 e che è comparsa anche nel film, potete venire da noi, provarlo, sono un minuto e mezzo filmato in 3D prima persona, è molto bello. Siamo nati nel 2014 come associazione e appunto uniamo tutti gli appassionati della saga, venite a trovarci!